Grazie. È iniziato già in un precedente convegno e poi sulle attività che svolgiamo insieme su varie tematiche, in particolare speriamo poi di andare avanti su alcune linee guida. Sette punti rilevanti. Ora se escludiamo tre di questi sette punti che riguardano le scelte politiche che restano sullo sfondo di questo workshop, e cioè semplificare la legislazione, coordinare piani di ricerca, intervenire sui piani di istruzione, gli altri quattro punti invece offrono una linea e degli spunti che credo siano abbastanza utili per disciplinare il nostro confronto di esperienze. Li richiamo, il primo punto è quanto e in che modo la prevenzione riusciamo a rivolgerla verso le micro imprese e le piccole imprese, come si fronteggiano nell'attività i rischi nuovi o i rischi emergenti, come è coordinata la formazione e l'azione di vigilanza, quella che nel testo della comunità è chiamata degli ispettori del lavoro, e si dice come è coordinata per dare più che controllo coercitivo consulenza sulla prevenzione e in particolare proprio su rischi emergenti e su nuove tecnologie. E poi il quarto punto che già ho sottolineato essere dal mio punto di vista molto importante, dice come i dati statistici sono utilizzati per la definizione e il controllo delle politiche prevenzionali. Questi quattro punti, se volessimo approfondirli, porrebbero numerosi temi tecnici rilevanti per il disegno dei percorsi di efficienza che siano effettivamente finalizzati a promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro. Ne segnalo cinque fra questi che a me sembrano particolarmente importanti. Il primo sui modi di promuovere e sostenere la prevenzione è il problema del disegno degli incentivi. I meccanismi di incentivazione debbono essere definiti e coordinati, almeno questa è la nostra esperienza, con molta accortezza. va definito come rendere efficiente il collegamento tra premio di assicurazione contro gli infortuni e le malattie e indice di sinistrosità, quindi il premio dipende dall'indice di sinistrosità. L'altro problema riguarda come indirizzare i finanziamenti agevolati e finalizzati al miglioramento dei mezzi e dei processi di produzione e degli ambienti di lavoro. Quindi abbiamo incentivi sostanzialmente di due tipi, da una parte incentivi che si legano ai premi di assicurazione, dall'altra parte incentivi che sono finalizzati ad avviare nuove azioni. Il problema di calibrarli è un problema tecnicamente non facile, entrano in gioco i criteri che servono a definire le classi di rischio, a esempio se definire la classe per processo produttivo, oppure se definirla per tipo di prodotto, oppure per ambito di attività. Entrano in gioco i criteri di calcolo del premio, entra in gioco l'adeguatezza della misura di sinistrosità, magari soltanto per pilotare in modo diretto i meccanismi di bonus malus. Il problema della sinistrosità, sottolineo, è importante, non basta poter conteggiare il numero degli infortuni, per calcolare l'indice è necessario avere anche a disposizione il periodo di esposizione al rischio che quegli infortuni ha portato. Gli incentivi possono essere subordinati anche all'accertamento del rispetto di norme volontarie e di buone prassi. Il soddisfare norme volontarie o buone prassi può essere una porta d'ingresso all'incentivazione. Il secondo aspetto che volevo richiamare riguarda la ricerca finalizzata, cioè il rapporto fra ricerca e prevenzione. La prevenzione per essere efficace deve essere sostenuta, secondo noi, in modo molto diretto dall'attività di ricerca. Lo accennava anche il signor Ministro nella sua introduzione. Il progresso tecnologico cambia i modi di produzione e le prassi di lavoro. Il progresso tecnologico può generare nuovi prodotti. Quando si parla però di rischi nuovi e emergenti non possiamo pensare soltanto a nuovi prodotti. Nuovi rischi possono essere indotti da nuovi processi che producono prodotti tradizionali. E' perciò importante progettare piani di ricerca che guardino ai nuovi materiali, ma anche ai nuovi processi di produzione e di organizzazione del lavoro. Deve essere una ricerca fermamente finalizzata, multidisciplinare, efficace nella conoscenza delle pratiche utilizzate, sostenuta da osservatori sulle utilizzazioni di strumenti e materiali. E c'è una ricerca basata sugli osservatori che ci dia diagnosi tempestive e approfondite. Può dare questo tipo di ricerca anche contributi molto efficaci per la formazione e per la definizione delle buone prassi. Come vedete ci sono continui collegamenti fra questi aspetti. In questo senso la ricerca diventa strumento delle strategie, della politica e della prevenzione. Il terzo aspetto che volevo porre alla vostra attenzione riguarda l'autoanalisi dei rischi e la formazione. La ricerca finalizzata è preziosa anche per dare contenuti alla formazione dei lavoratori, contenuti che siano adeguati alle situazioni. L'adeguatezza riguarda gli ambiti di attività, i modi e i livelli di comunicazione. Può essere proficuo il collegamento tra piani di formazione e schemi di autoanalisi, cioè di autoidentificazione dei livelli di rischio che caratterizzano i processi di produzione, ma anche la capacità di rilevazione dei dati relativi ai quasi incidenti. Quindi una rilevazione intrinseca e autonoma rispetto alle attività delle imprese. Sono tre componenti queste, la formazione, l'autoidentificazione dei rischi, il censimento dei quasi incidenti, che se ben definiti e integrati possono contribuire a dare una nuova fisionomia e una nuova efficacia, secondo me, alle politiche di prevenzione. Il quarto aspetto riguarda la rilevazione dei dati. Per calibrare le politiche di prevenzione è essenziale la disponibilità dei dati, è essenziale che la rilevazione dei dati sia tempestiva e che i dati siano di buona qualità. L'osservazione in sé ovvia, avere dati tempestivi di buona qualità è un auspicio che tutti sempre si fanno, quindi l'osservazione in sé ovvia diventa rilevante, però se ne consideriamo gli aspetti pratici e operativi. È importante valutare attentamente quando si progettano basi di dati e tecniche di rilevazione, bisogna valutare attentamente il trade-off tra dettaglio dei dati, costo della rilevazione e loro qualità. Penso alla catalogazione delle cause di infortunio. Una classificazione troppo analitica può generare ambiguità e attribuzioni troppo condizionate dall'interpretazione del rilevatore, indurre rumore nell'informazione. Può ritardare i tempi di rilevazione, indurre difformità nelle qualità di dati rilevanti. In questo senso, classamenti a un livello di generalità più alto garantiscono analisi più adeguate e confronti più agevoli tra banche dati diverse. Anche sull'organizzazione delle banche dati sarebbe auspicabile un coordinamento. Le moderne architetture, nello stile dell'open data, con strutturazione di metadati, potrebbero rendere più agevoli e tempestivi collegamenti tra insiemi di dati e analisi a livello nazionale, ma noi spereremmo anche a livello europeo. Ci sono molte statistiche europee che arrivano molto dilazionate, molto ritardate rispetto alla disponibilità dei dati nazionali. Sarebbe auspicabile magari avere meno dati, ma più tempestivamente. Chiudo con lo stile della vigilanza. L'attività di ricerca e la disponibilità di dati di qualità sono importanti anche per lo stile della vigilanza. La comunità europea auspica, abbiamo visto, un'azione della vigilanza, degli ispettorati del lavoro per dare consulenza sulla prevenzione, in particolare sui rischi emergenti e sulle nuove tecnologie, ma le azioni di vigilanza hanno un costo, devono essere mirate sui casi che si prevede siano più critici, c'è bisogno quindi di sistemi di individuazione e degli ambiti da ispezionare. Per questo banche dati su cui agiscano sistemi di intelligence sono essenziali. Anche per questa finalità la logica dell'open data, e cioè degli insiemi dei dati aperti collegati a grappolo con metadati che possano essere con robustezza fra loro coordinati, può risultare economica ed efficace. Spero con questo di aver dato, sebbene piccolo, un contributo alle idee che verranno da questo workshop. Non mi resta che ringraziarvi per la partecipazione e augurare a tutti buon lavoro. ragazzi e ragazzi, grazie molto per la sua invitazione. È un piacere per me di essere qui oggi. Prima di tutto volevo introdurare a voi, mio nome è Olaf Piedermain, ero in Leipzig, Germania, dove sono andato a scuola in Trier. Ora... Ok, grazie. Grazie. Ciao sono io in Cologne... Cologne è famoso per il giallo e per il giro fottovale. Per le fottovale fottovale in i ultimi varianti 10 anni. E molto importante per la storia romana, la storia ricetta è Agrippina, la ungla, la moglie di Claudia, la sede di Caligula e madre Nero. Lei è nata in Cologne, ma ha una buona reputazione in Roma, ma Cologne è orgogliosa di Agrippina. Since 1986, ho lavorato per la BG Energy Textile Electro-Medienazognese. It's a very long term, German Social Accidents Insurance Institution for the Energy, Textile, Electrical, and Mediaproducts Sectors, in short, BG. The BG is a social insurance which gives support in case of accidents at work and occupational illness. We work following national laws, but we manage our companies and our employees ourselves. We are therefore independent of state. We are self-financing, but we make no profits since 2002. I'm the CEO of the BG. Our member companies come from the energy supply, the electrotechnical industry, the fine mechanical industry, the textile and clothing industry, and the printing industry, companies of these sectors must be injured with our BG, that is germ law. We have many international active companies in the industrial fields that you know, that you may know. But we have also many small, medium-sized companies, such as electrical trade companies, opticians, tailors, photoshops, watchmakers. We have a total of 3,6 million injured persons in 260,000 germ companies. As I already said, we insure according to accidents at work and occupational illness. I think they are tasks, I think they are tasks similar to INAIL. We pay for inpatient and outpatient medical care. We grant the employer sickness benefit as long as they are incapable of working as a result of an accident at work or an occupational illness. We pay pension in case of permanent disabilities. Moreover, we finance retraining for a different job if the original profession can't be exercised anymore. In the year 2013, the turnover of the BG ITEM achieved 2 billion euro. We also practice prevention in our member companies. Everything that we can avoid by prevention does not need to be compensated. That is our most important task. We established rules and technical regulations for occupational safety and health. More than 600 of our BG ITEM works in the field of prevention. Most of them are safety inspectors who examine the company. Each company has to be examined at least every three years by the BG. We train employees of our member companies in occupational safety and health as well as safety experts who provide occupational safety and health in the companies. And we are testing facilities to examine and certify work equipment. For instance, tools such as drills or technical installations. And there are many other measures. We operate a global service for the measurement of hazardous materials. Many of our member companies abroad abroad all over the world built power plants in Russia or aircrafts in China. Next week we will visit and examine textile factories, German textile factories in Pakistan. I would also like to recommend you on our security firms that we distribute on the net via YouTube. And the BG ITEM on YouTube. We produce two or three security firms each year. Since we ensure many international active companies, international work is of great importance for us. We do the following. We take part in the international technical standardization, CENELEC and ISC, for example. We also globally examine occupational safety and health of employees on construction sites, sites in industrial plants, construction or plant constructions. If member companies of our BG are involved. And very important, we have been a member of the ISA since 1972. We, where we are responsible for the international section of the ISA on electricity, gas and water. The work of our section involves prevention in these fields. We have about 40 ordinary and corresponding members in the world. And jointly organize workshops and seminars as well as trainings for managers and staff. Over the last few years, a number of guidelines of prevention have been established. You know, the ISA was founded in 1927. I think you know it all. We have 340 organizations in over 160 countries. Members of the ISA are authorities, social insurance funds, other governments, institutions, dealing with the object of social security. It is not all easy to define the term social security. The ISA understand it as very comprehensive. This can be seen from the different technical commissions created within the framework of the ISA. It's about the social security of employees and other persons in the event of retirement, illness, unemployment, accident at work, occupational illness, general family issues and very important, prevention. The technical commissions also look at how benefits have to be granted. Since ISA members are mostly state institutions, similar problems of efficiency occur everywhere. For instance, problems concerning contribution collection and compliance with legal requirements, modern information and communication, IT, work it with IT, investment of funds to guarantee social services and financial aspects of the social security. Social security also includes prevention, which has a different meaning in each technical commission. It is less important for the pension insurance because you can't do much against age. It is for the field of sickness insurance and unemployment insurance where you can do much more in order to maintain health, you can eat healthy food, do more exercise, and in order to avoid unemployment, you can index your knowledge, keyword, lifelong learning. You can reach the best results with prevention in the field of occupational safety and health. Every accident at work and every occupational illness could be avoided. First of all, the aim of reducing accidents at work and occupational illness seems realistic. We are always happy if we can report fewer accidents at work and fewer occupational illnesses than the year before. But there are many countries and many companies whose aim is a vision zero. And many of them have been successful in reaching zero accidents at work. All member organizations of the ISA dealing with prevention, especially in the world of work, are united in the ISA Special Commission on Prevention. Worldwide, 13-section work on the issue of occupational safety and health. The history of the section is the history of the trends in occupational safety and health. For a long time, occupational safety and health was considered as a safety technology. However, safety-related requirements varied in the different branches. In the beginning, sector-related sections on occupational safety and health were created for the following fields. Mining, chemistry, construction, electricity, agriculture, health services, metal. All these branches recorded a high accident frequency. And still today, the section focus on the safety aspects. Later, further sections on prevention were founded. First of all, the research section. Especially in the 80s, scientific research was perceived as important for prevention. In these sections are a number of institutes and university institutions are dealing with research in the area of occupational safety and health. Then, the information section is dealing with social communication and information both within and between companies in occupational safety and health was founded. It emerged in the 90s when modern IT supported information and communication technologies also covered the fields of the occupational safety and health. The education and training section was also founded in the occupational safety and health in the 90s. The section is based on the knowledge that most of the accidents go back to lack of education and training in the field of safety. This is the reason why the section is specifically concerned with the pedagogical aspects of education and training in prevention. In 2008, it was created as a result of the world congress for safety and health at work in Seoul. It follows the philosophy that occupational safety and health standards do not only depend on measures, but also on a number of technical, organizational, and personal measures representing a culture of prevention. The higher the level of the prevention culture, the better the results in occupational safety and health. And a new section is the transport section is the newest one. Its creation was based on the recognition that the road transport is the most common reason for accidents and work. I also observe in Germany the roads are dangerous, dangerous work. Road accidents are more expensive than accidents at workplace. All sections work together in the special commission on prevention that I have the special honor of sharing this commission since 2008. What issues do we focus on? What issues do we focus on? The focus is on the international exchange of experience. We organize meetings, congress colloquia, seminars and workshops in the whole world. The idea is we can all learn from each and in practice there are many paths to successful prevention. They are also not sexual promotions. They are also not sexual promotions. I repeat, we can all learn from each and all we can together learn, learn. The most important prevention event is the World Congress for Safety and Health at Work which is jointly organized by the ILO and by the ISSA. The last World Congress took place in August this year in Frankfurt am Main. 4,000 participants from all over the world came to discuss current developments, trends and use. In the framework of the Congress, the International Media Festival was jointly organized by the electricity section and the information section of the ISSA. Nearly 300 films and multimedia production had been submitted to the competition. We awarded a number of prizes. A winner comes from Italian. The next Congress for Safety and Health at Work and the next media festival will take place in 2017 in Singapore. Finally, three examples from the ISSA work. We also developed guidelines in working crops in our sections. The currently developed guidelines of the electricity section are our fellow guidelines for the selection of personal protective equipment. Guidelines for assessing the competence of persons involved in life working. You can see the fields of electrical safety, safe behavior, very, very important. In the field of the entire ISSA, the following guidelines have been adapted for prevention. Essential guidelines for prevention are prevention of occupational risks, workplace health promotion. These two prevention guidelines are important for the ISSA member institutions in the field of prevention. They are also globally important for employers and employees all over the world. A completely new institution is the ISSA Center of Excellence. It was presented at the World Social Security Forum in November 2013 in Doha, Qatar and is based on the above mentioned guidelines. The Center of Excellence accompanies the member organizations on their way to administrative excellence and make instruments and serves available. It offers advice and support. Furthermore, workshops and training courses are offered. The Center of Excellence increasingly becomes the focus of the activities of ISSA. The idea and aim is we need a high level in the area of social security all over the world. Only through joint action we can achieve and the Center for Excellence is the best way to go. So, yes, thank you very much. Thank you very much for your attention. Thank you very much. I'm happy to be here and to inform you about a project to support SMEs and family-owned enterprises we are running. We have developed in Germany. First of all, some words to me to introduce myself a little bit. I'm representing the ISSA mining section as you heard already as Secretary General. You heard by Mr. Peterman what the sections of the ISSA are doing. My second hat is I'm the responsible for prevention activities in one of the other BGs for chemical industry, for mining, for paper production and many other productive branches. And I'm the chairman of this new initiative for sustainable SMEs and family-owned enterprises. First of all, I would like to inform you about some facts on SMEs in Germany. And I think they are not different to other countries in Europe. I could show you hundreds of statistics and statistical data which show us that SMEs are essential and extremely important for the economy and economic success in Germany. About 3 million enterprises we count as SMEs, 99.6%, so only very few have more than this. In this case we took 250 employees and so only very few have more. They contribute to the turnover in Germany about 36% and they give jobs to 60% of all our full employed workers in Germany. And then we have an employer. And very often it's only one employer. It's different than with other enterprises which have a structure. And very often the employer has not an academic grade and is not wearing a tie like in this picture. And he has to do everything. He has to run a successful company and then different stakeholders come and tell him what to do. I think we all know globalization is one pressure the SMEs have to stand. Financing very often if they go to the banks they have problems to get the money for new projects. They tell us too much regulation overload, too much documentation burden and more and more we hear that they have already recruiting problems because the so-called good jobs are offered from the big companies and the SMEs have to take the rest. Let me say it like this. So, we recognized this situation and about 10 years ago we had an idea and we tried to ignite a candle in order to found this German SME initiative for success and sustainability. We call it in German language offensive middle stand which is good for Germany but is as well good for Europe. In 2005 eight friends, I was one of them, were sitting together and were thinking what could we do? Not new legislation, not say we have a new accident prevention rules and we have new knowledge from our statistics, emerging risks, everything. Everything we add and add and add. So, we were thinking and had an idea and our idea is still we don't want to wait till the politics or till Europe comes and solves the problem. We want to be active by ourselves. And the SMEs and their representatives and their partners should come together and help themselves, help ourselves, let me say like this. So, this German SME initiative is developing practice tools for SMEs. We heard it in the last session that this is needed and we have some of them. We support SMEs in their working conditions. We assist them to make their processes preventive and innovative. We promote also the image of the SMEs as an engine for innovation and for sustainability and for success of economics. And we bundle the energies for effective supports. So, we want to bring all actors who come to SMEs together and let them work together. And our hope is that we can help to make SMEs fit for competition and show new ways. Today, this initiative has developed. Meanwhile, we have about 255 organizations and employer organizations and very different actors together at one table. Of course, we have the SMEs themselves and their organizations. And we have the employers associations, the Federal Association of SME Businesses in Germany. The unions are sitting on the table. All different actors from social insurance. Of course, also labor ministry is sending someone. But we have also other fields like tax advisors or the Chamber of Tax Advisors. German Road Safety Council. And many, many more. Of course, consultants as well. So, that's a really big initiative. And now I would like to show how we work. We have a big table. We call it, that's our plenum. And two times a year, we invite all interested organizations to assemble. And, of course, not all the 250 attend all the times. But around 50, 60, 70, sometimes 80 come. And we have an agenda. And we decide what's an activity, what we want to do. We have a very slim steering committee. Only nine people. And that's the structure of organization. And then we have founded thematic working groups. And we have, meanwhile, regional networks all over Germany. Because the main problem is how do we bring our solutions, our ideas to the enterprises. We have already organized special training courses for consultants who are committed to this idea. And so, there is a special training course. And these consultants must then know our tools. And they bring the tools to the SMEs. And, maybe interesting, also labor inspectors. The labor inspectors from the BG are attending these kind of training courses. And, I think, in a minute you will see that it's a different way than just to think in safety and health. Meanwhile, we have about 650 of these qualified consultants. This is a map of Germany. And, you see, we have some white color there. There is where we are developing new regional networks. But, in much parts of Germany we have already. And, it's growing very fast. The thematic working groups are health management, information technology, corporate culture and communication. Business succession is also a big problem for SMEs. And, we have also a university group where universities are sitting together and also develop tools for the SMEs. What kind of tools do we use? Our tools should be, we think less is better. Not always write books, but keep it simple. Our tools are adopted by consensus of all these actors. So, this is a new approach. It's not sent, not given, not delivered by Brussels or anywhere else. It's developed together and everyone who was involved says it's a good way. They are quality assured and they can be implemented directly by the employers themselves and by consultants, of course, as well. Our main tool is the SME business check. And, this business check describes a standard for sustainable organization of SMEs. It is a self-assessment tool for employers or managers, if it's a little bit bigger company. It demonstrates the potential for optimization and good practice and is also a basis for external consulting. So, we want that everyone who is supporting, who is working with SMEs is using the same tool. And, I have it here. I have some copies. This is the SME business check. So, you see it's a slim tool. And, we have 11 elements. We cover strategy, liquidity, risk assessment, leadership, customer care, organization, company culture, staff development, processes, procurement and innovation. So, these have been identified as the most important success factors for sustainable SMEs. Now, we are here at a conference and talk about occupational safety and health. And, maybe you will ask, where is occupational safety and health? So, we don't have 12 topics, occupational safety and health. But, occupational safety and health is included in every of these 11 success factors. And, I don't want to read all these examples you can see here. But, you can see in every of the 11 success factor elements, safety and health is one integral part. Just the examples. So, we can say OSH is included. I think that's a progress for occupational safety. When we come and say, and then you have to do in addition safety. It's included in the management of a successful small enterprise. The systematic of the individual topics, it's all on one page only. We have a small introduction, only two sentence, not much text to read, where we describe the target. Introduction to the 11 topics. Then, we have the different checkpoints. So, we ask questions. All are formulated in questions. And, the employer can give himself the answers. And, in case that he says, what do you mean by that? We have very small examples there. What do we mean? What is meant by the questions? And, the employer can derive actions. And, at the end, he can also print out an action plan. Of course, it's available online and as an app. And, so this was the starting point. We have very good results and very good feedback from this very slim tool. And, therefore, there was a question. Could you provide us another tool to go in some specific topics a little bit more into depth? And, so, up to now there are two others of tools. One is for human resources and one is for occupational safety and health. So, there is a tool where you can go more into the details. These are the elements of successful human resource management. I think, because of time, I don't read the 11 elements. But, I guess you understand what I want to tell you. And, you have seen how it works in the management check. And, these are the 11 elements we have identified for successful organization of occupational safety and health. The ORGA check has an additional tool. We can, if you go online and use it online, the employer can get a benchmark result. So, between every SMEs who have used this electronic tool, you can directly see where you stand. So, we think this is a motivational element for employers. Because, they don't have to ask the labor inspector, am I good or bad? They can have their own assessment and see where they stand in the ranking. And, you can do this in different ways. You can compare with similar enterprises from your branch. You can make a selection to company size and different. And, you can also look to specific to the individual topics. How do we reach the SMEs? We do a lot directly. We reach them by the consultants, by the regional networks. And, we reach them by public relation activities. We are organizing big congresses, especially for SMEs. And, of course, we have different events from the SME initiative. Maybe, it's interesting to tell you, there is the linking between the German OSH strategy, which has been addressed in the prior session. And, what we do here, this ORGA check, which I showed you at the end of the presentation, is an official tool in the German national OSH strategy activities. And, meanwhile, is used by all labor inspectors. We have 2,500 state labor inspectors. And, we have 2,500 labor inspectors from the BGs. And, all of them are using that. And, if they see during their consulting processes, that maybe there is another need for help for an SME. They can go to the SME check, to the main check, or can go more into detail. So, it's possible to start the process from different levels. This is the example from Germany. Thank you. Thank you very much. So, my first statement, first of all, I would like to thank for invitation, Poland, to this conference. And, my first statement is connected with the fact that technological and organizational changes in work processes, and related problems of the labor market, have made it necessary to develop and disseminate social innovation. I think that it is added value to technological innovation. They are particularly important for social insurance institutions, which are, at present time, under very strong pressure of the aging society. So, I can sense that there are about four milestones of the Polish case study. The first one is the result of psychological research and the possibility of extending professional occupational activity and optimal organization. The second one, these are results needed to be reflected in law, so that relevant systematic solutions for the economy can be proposed. And, third one is dissemination of knowledge among the beneficiaries, social contribution payers, in cooperation with the National Labor Inspectorate and Central Institute for Labor Protection. And, the fourth one, the crucial for social insurance institution, is, of course, implementing this solution. So, in Poland, the Ministry of Labor and Social Policy is the institution who supervise all system for prevention. Oh, something is coming, additional. And, to the Ministry of Labor and Social Policy is subordinate social insurance, yes, 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 yes. So, I can learn Italian language. So, the Ministry of Polish system for preventing occupational risk is supervised by the Ministry of Labor and Social Policy in relation to social insurance institutions and Central Institute for Labor Protection. We realize this task, we realize this task in cooperation with National Labor Inspectorate, which, in Poland, as you know, is subordinate to Parliament. All of these institutions cooperate for improvement of working condition. The first legal instrument was elaborated by social insurance institutions in cooperation with Central Institute for Labor Protection. It is method for determining the premium of insurance against accidents at work for enterprises. And, this orange line, this orange line, it is average for industry branch. And, from 2009, we have differentiation of this premium depends on the category of risk. And, if the category of risk will be improved for six categories, they pay 50% low. If it is rise six categories, they pay 50% more. So, it is some economic stimulation for improving working condition. The second legal instrument, which I would like to introduce you, it is the fact that, in 2013, retirement age in Poland, being raised to 67 years. So, the catalogue of tasks related to accidents prevention has been expanded. As a new task, so social insurance institution, it is give possibilities, opportunity for financial support of enterprises in improving working conditions. So, it was clear that accidents premium for insurance must rise. And, financial contribution of social insurance system was allocated to accident prevention change. And, in 2014, the first time, we reached 0.5% for prevention. In next years, it goes up gradually to 1% in 2017. There are supported branches of industry, where the risk category are between 7 and 10. There are different industries, for example, manufacturing metals or vehicles other than cars, construction of cars, manufacture of furniture or plastic products. Co-financing this project by social insurance institution in 2014, where between 20 and 90% depends on size of enterprises. And, the effectiveness of this program, it is first, not full year, but in second part of this year, co-financing was about 1 million euro. and working conditions being improved for 1,736 persons and few hundred projects are now ongoing. So, it will be changed very strong in next years. Some examples. Here we can see furniture factory before modernization. Main problem was ineffective firms ex-house system and, of course, mechanical injuries. And, after this project, you can see clearly the difference was really improved condition of work. The second example, it is metal production. And, work on height in a production hall, with platform, working platform installed on a forklift. It is much more safety and, of course, much more comfortable for workers. But, of course, in general, going to strategy on the level of government, so we need this systematic program. And, this task is fulfilled in Poland by national program, improvement of safety and working condition, established by Council of Ministries. Proposal is Ministry of Labor and Social Policy, cooperation with Ministry of Science and Higher Education. Main performer and coordinator of this program is Central Institute for Labor Protection National Research Institute. And, we focus special on two vulnerable age groups. The first of them, oh, I haven't it here. Yes, the first one, it is between 26 to 30 years. And, the second one, 52 and 55 years. The groups, especially vulnerable in the aspect of accidents. For achieving these goals of program, we use our network of experts certified by Institute in the all of Poland. So, on this way, we can disseminate the results of our research and we can support them in improving of working condition. Of course, this dissemination can be directly or indirectly. And, there are some examples. With training for small and medium enterprises, in 2013, it was 186 training courses for construction, health protection, transport, processing industry, for more than 5,000 of persons. And, of course, social insurance institutions of financing scientific conferences and symposia. This institution has disseminated on DVD the following application. interactive simulation of real accidents in construction, animation of hazards in mining, self-assessment and self-control of working conditions. The Institute, for example, elaborates multimedia educational materials for universities, secondary schools and press schools. And, on this way, we prepare new generation with more information about safe prevention culture. And, the Center of Education of Central Institute of Labor Protection have now, per year, above 7,000 participants. And, above 400, there are postgraduate studies. And, from 1997, we organized the competition of posters on different risk factors. For example, you can see here stress. You can see computers, homocomputers, and other problems. And, you can see two personal protective equipment for Batman. So, we now have more than 10,000 of posters, and have a lot of exhibition, and a lot of books are illustrated by this kind of posters. Over 3,500,000 users of information in 2013, we reached. And, a special one, it is development of website. And, you can see that we reach now about 3,500,000 visitors every year. And, for international organizations who are ranking these websites, the website of the Institute take first position in Poland, seventh in Europe, and 14th in the world. But, going to more direct action, it is safety in construction campaign. We just take this effort by social insurance institution and national labor inspectorate. Causes of accidents in construction, they are organization, human, and technical, as always. The slogans of this campaign, it is angels, will not save you. Proper training and supervision over employees ensure efficient protection. And, more a short one, don't be a victim, do your job professionally. Major construction enterprises were involved in the campaign, and they signaled the agreement for safety and work in the construction sector. The main message of this campaign reached a large group of subcontractors. It is especially important because, as we all know, subcontractors, it is a group special involved in accidents. There, of course, traditional dissemination, but most more effective is dissemination through TV. And, in the five years of this campaign, above 14,000 of promotional films, with the main slogans of the campaign, were broadcast, including by social insurance institution, 8,800, and for national labor inspectorate, 4,400. Training on accidents prevention, dedicated to employers, special small and medium enterprises, carried by institutes in cooperation with social insurance institutions, And, going to summary, the efficiency in disseminating good practice in OSH depends on, the first, scientific basis for social innovation. The second, inclusion of the social innovation in the labor law. And, the self-diversification of content and form of disseminated information to be appropriate for users. Thank you for your attention. So, we are approaching the end of this session. I think I'm the second last present. I have my presentation now today. And, according to the advice, I try to be very brief. So, I will shorten my presentation. And, I will bring greetings from Finland to you, to Rome. As you know, in Lapland, we have a real winter already. So, and here in Rome, I could call this a Finnish summer. So, I'm happy to be here, and thank you for the invitation to be here. So, my topic today is zero accidents. Many of you know, have heard about this concept. And, I will tell you our practical example how we have applied this principle in Finland. We call it Zero Accident Forum. And, this has been really a success story. Maybe a bit similar to what Helmut Ernst was telling about this INCA initiative. It's a bit similar experience that we have. But, our topic here is zero accidents. Institute where I'm coming from, Finnish Institute of Occupational Health. It's one of the leading research institutions in Europe. And, we have very good cooperation with our European colleagues. But, as well, in a global business. We have a Twitter account. So, if you want to follow what's going on at our institute, so you can plug yourself to our Twitter account. During the years, we have transferred our research into different types of products that the companies can make good use. And, I will tell you more about this Zero Accident Forum today. We have spoken already today quite a lot about safety culture, safety management. And, this is really a topic when we are talking about zero accidents. It's the question of changing the safety culture. Our colleague, Chris, spoke about this safety culture. And, it brings the goal to our OSH work. So, zero accident, it is the goal. And, this is safety culture. But, then we have to work with the tools of safety management in order to go that direction. And, these are the success factors if we want to have good results at company to reduce accidents, to improve safety. All these three items are crucial. If this does not function properly, we cannot achieve good results. So, we should have a clear strong commitment of top management of the company. And, this should come from the heart. Not from the words, but from the heart. So, it means that managers are really interested in safety of people. Another aim is to have active involvement of personnel. So, safety matters everybody at workplace. We have spoken today about cooperation. And, I believe in this cooperation. And, in Finland, we have a good social dialogue between employers and trade unions. And, I think this is one success factor to find this common win-win situation. Also, at company level, this is needed. And, of course, we need a well-organized safety and health management system to run this safety business in a company. And, international labor office has estimated that if we would make best use of current knowledge, what we know about accident prevention, we could each year prevent 300,000 fatalities and 300 million work accidents. So, it means that we have all the wisdom available already. But, the challenge is how to put this wisdom into action. And, this zero accident vision provides the platform to change attitudes to positive direction and really to make full use of this knowledge. This is, this is the way how we can change this situation. And, what the good news is that we have already good examples how we have done this. So, this is a feasible project. But, of course, this is a practical challenge, but also an intellectual challenge. Like, I think we all remember when we first time we heard about zero accidents. So, we were thinking, what is this? Is this feasible or not? So, it means that we have to change something in our minds. So, zero accident vision provides ethically sustainable basis for accident prevention. We cannot have any other goal than zero. If the goal is five accidents per year, the next question would be, who would have these five accidents? Is it you or is it me or our colleague? So, the final goal should be really a zero goal. And, this is based on belief that accidents are preventable. And, there is some practical evidence that this can function. And then, on the other hand, if we have reached a goal, a good safety level, it's hard to maintain it. It means that every day we have to do the safety again. So, it is an everyday job at companies. There are many triggers why companies wish to change their accident policy. I don't go into details, but we have studied these triggers with our Dutch colleagues. And, here are some examples why companies wish to make this. Already, our colleague, Olof Petterman, you told about this history, how this safety culture and prevention culture issues has established in Seoul. And, this Seoul Declaration is one of the main statements globally to improve safety and health at work. We had some follow-up strategy conferences in Dresden related to this topic. Last year, in Helsinki, we organized a symposium on cultural prevention together with our ISSA colleagues and Korea Institute and INRS from France. And, by the way, these proceedings are available for free on our website. So, this is the web address. And, by the way, if somebody wants to have this, my slideshow, so you can give your card after my presentation, so you don't have to write all these addresses. And, then, Frankfurt was really based on this zero vision, and it was a really step forward in this matter. But, this is shortly what I'm going to tell you now details how we are running this Zero Accident Forum in Finland. We started this in 2003, together with the Finnish Ministry of Social Affairs and Health. This is based on very simple principles. We believe that all accidents can be prevented. Accidents do not happen by accident. So, there are always human reasons behind accidents. And, learning is the key to success. If something goes wrong, we have to learn from accidents. This is open to all workplaces, big or small profit-seeking or non-profit-seeking. And, this is a voluntary-based commercial-free network. These are the statements that if the workplace of the company wish to be a member in this network, it is normally chief executive officer who will sign this application. And, these are the statements. To be short, it's only that the company is willing to prevent accidents. But, there are many practicalities. But, I don't read now all these details, what should be done. And, where we are at the moment, we have 322 member organizations across Finland in this network. And, these organizations employ about 14% of Finnish working population. So, this is big business in Finland. We have companies from different sectors. Half of these members are coming from industry, like chemical industry. It is very strongly involved construction companies. We have three nuclear power plant companies in Finland. All these are members in the network. Mining construct, mining companies. But, as well, big hospitals, like university hospitals. And, big municipalities, like city of Helsinki as a whole is a member. So, this means that these members can learn from each other. And, this is the added value of the network. That, these members can learn across different economic sectors. And, this has been really a success factor of this network. And, what we are doing in practice, we organize different seminars, training courses. We provide safety level certifications from the previous year. Safety progress, I don't go into details. But, this level one is really a zero level. Level two and three depends on the progress of the previous year. We publish different campaign materials for the company use. For example, here we have a campaign material, how to intervene in risk behavior. We know that this is a big challenge in a company. If something, somebody is doing wrong, what should be done? And, this material gives advice for that purpose. We have extranet for member use. It's only for members. But, then we have web pages online. And, if you google zero accident forum, you will end up here. So, we have a lot of material in English as well here. We publish a newsletter. And, we have published one newsletter also in English. Normally, we publish this in Finnish. But, this one, you can download this for free just to see how it looks like. This newsletter. And, these are those good examples from the member organizations, how accident can be prevented. And, then the question is that what has been the effect, real progress of this. And, the thing is that I have good news for you that those companies who have been member from 2008 to 2012, it's 73 companies. They have reduced accident rate by close to 50%. And, national statistics during this year has remained more or less the same. So, we believe that this has a positive effect to be a member through this learning. And, then we have some really successful examples that this is one development in a factory producing construction materials. They had very high accident rates beginning of 90s. And, now they are zero level making good business, similar products, same amount of people working. And, this is not the only one. So, it means that each company, if they wish to make progress, they can do this. We have studied also those success factors, but, before I, maybe I quit here because time is running. So, one consequence of this type of thinking is that the Finnish Confederation of Construction Industries, so this is employer association in Finland. They have stated that by the year 2020, the goal is zero accident in the Finnish construction sites. And, as you may know how many accidents there are in construction sites, this is a big challenge. But, we have already construction companies pretty close to zero, so it is feasible. And, we all remember Olympic games in London. And, they had zero fatal work accidents during this construction period. And, this was from the beginning the goal not to have accidents. So, if you have proper aim, you can reach this goal. But, maybe I have some other news. But, maybe I will tell this in the next time. So, I quit here. Okay. Thank you very much. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much that you are almost staying here. Although, the time is over. I will try to do the presentation as fast as possible, so that we can leave the room, as we have to do. You see, we have also a vision, Vision 250. Our vision is bigger than the Finland vision. But, it depends from the content. And, I now want to explain you why we did choose that name and what are the tools that we are using for the advertising of this project. You can see, here, see the chart with the accidents resulting in death in Switzerland. The chart is decreasing. And, you can see, it's a nice curve. But, you can also see a stagnation since 2007. SUA, therefore, set itself the goal of actively influencing that graph, the development of this curve from 2010. The set goal was to halve the number of accidents with fatalities and also to halve accidents with serious injuries by the year 2020. If you calculate the area between the level 2010 and 2020, you find the number of 250 lives. Based on this, SUA has called the project, Vision 250 lives. And, in parallel, we have defined, accidents involving disability are to be prevented too. Also, 250 accidents. For this safety charter, for this vision, we have created two instruments. The first one are the vital rules. And, the second one is the safety charter. The rules are for the employers and the safety charter is for the management. Over the past three years, SUA has created about 15 sets of rules. These rules are based in part on the numbers shown in the priorities. The figures show the number of deaths and the number of disability cases over the last 10 years. One key issue is falls in high-rise construction with 229 deaths and 3,760 series accidents. In addition to various prevention campaigns on topics such as maintenance, tripping, forestry, etc., which are generally vehicles for SUA's prevention message, the aim of SUA's vital rules is to tell every employer exactly that. If one of these rules is being violated, it's necessary to stop work, to eliminate the hazard, and only then to resume work. Here, you can see an example with the eight rules for the high-rise construction. I'll not explain them right now. For the employers, we have created these simple leaflets. On the left side, you can see one with the rule number one, which means we secure all edges from a fall height of two meters. And on the right side, you see the rule number six, which says we create safe accesses to all work areas. For the supervisors, we also have created some documents. We have an instruction map created, and their supervisor have the information that they should suggest training one rule every week, not more. And then compliance with this rule must be consistently monitored. Of course, supervisors also must be teached to react correctly when an employer says stop. This is the list from all the sets of rules we already have created. There will be one or two more until March of next year, and then the rules will be completed. The main message, as you can see, is very simple. It says stop in case of danger, eliminate hazards, and only then resume work. We can say that people are very familiar with the rules. Unfortunately, stop is not being said with enough consistency. Therefore, the focus of the campaign is currently aimed at training the employers. This message to employers is you are entitled and obliged to say stop. The second tool I want to show you is the safety charter. Here you can see a map from Google, and in the middle you see Switzerland, with all the companies that already have signed the safety charter. We have also some companies in Germany, in Belgium, also in Italy, and a very special one in Africa. We have a logistic company in Ouagadougou. Actually, there are about 800 companies that have subscribed to the safety charter. The safety charter is not a new law. It's only a self-declaration. It was founded in cooperation with employers, federations, planners, and trade unions, and SUVA was only in the background to organize and to manage the project. I want to show you now one example of the safety charter. There exist two kinds of safety charter, one for the high-rise construction, and one for the industry section. And as you can see here, we have the simple message, stop in danger, eliminate hazard, and go ahead, it's working. You also see three parts, because we speak with three kinds of peoples. We speak to the planners, we speak to the supervisors, and we talk also to the employers. The difference is only the section for the planners, because the planners in the high-rise constructions are other planners. They are the architects, and the industry, they have another function. So we have made, because of this, two different safety charters. Here you see the general terms and condition of business for the safety charter, and you can see it's a very, very simple construction. It contains the message, stop in case of danger, eliminate hazards, resume work. And the companies have to declare the vital rules relevant to the company as binding or defined, or if they have no vital rules from SUVA, they can use their own safety rules. in conclusion, with these two instruments, safety charter and vital rules, we have quite a successful story started, because we know, because of our evaluation we have made for the last four years, that about 90 persons of all employers, now this message, stop in danger. This is, I think, because the rules are nothing new, they are well known, but new is only the message that they have to stop work in dangers. This means that the first phase is finished, people know the rules, people know the vital rules, and the next step will be introducing the step from just knowing the rules, to really say, stop in danger. The early adopters, early have introduced this into their safety culture. The next, at least two years, we will offer the companies our support, we will make a lot of workshops, we will produce best practice examples, and also there will be some films. We know the next step is the important one. But we think positive, we believe in that project. As you know, also Rome was not built in one day. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. I would like to welcome the participants of the seminar of the seminar and thank you for the invitation, for the invitation and the opportunity to introduce you with the work of the Social Security Security. As we can tell you, them, that were, personally, I would like to say, that yesterday in my show have colleagues had my experience and knowledge about the solving of the задач that we are going to be on. The way we are working, and we are going to эти questions. it is very important. And I would like to tell my colleagues about how to visualize the situation that was in the time of the 20th century quando c'è un'è 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 un'è? C'è un'è 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 un'è? C'è un'è 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 un'è? C'è un'è un'è? C'è un'è? C'è un'è? C'è un'è? C'è un'è un'è? C'è un'è? C'è un'è? C'è un'è? C'è un'è? C'è un'è? C'è un'è? C'è? C'è un'è? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono particolarmente grato all'Istituto Internazionale di Sicurezza Sociale, all'INAIL, per avermi dato la possibilità di partecipare a questo simposio, in particolare a questo seminario, ripercorrendo anche con alcuni colleghi presenti con i quali abbiamo percorso insieme un po' la strada che cercherò brevemente di raccontare di questi 15 anni e anche quelle che sono le prospettive che pensiamo di perseguire per il futuro. Mi fermo qui, anche perché siamo già in ritardo, mi direbbe Mario, quindi cerco di non superare il mio tempo. Comincio da qui, in questi ultimi anni stiamo assistendo a un trend di diminuzione degli infortuni, anche quelli mortali stanno diminuendo, tuttavia è un trend che non ci lascia soddisfatti, non ci può, non ci deve lasciare soddisfatti e dobbiamo rafforzare, stabilizzare questo trend di riduzione e rafforzarlo, aumentarlo. Inoltre dobbiamo tenere presente che dall'altra parte vediamo un aumento delle richieste di indennizzo per malattie professionali e quindi è un quadro che sta anche evolvendo positivamente ma sul quale dobbiamo ancora lavorare e lavorare intensamente. In questi anni l'INAIL, in modo sinergico naturalmente con gli organismi legislativi e regolamentari del Paese ma anche a livello internazionale e in rapporto di stretta partecipazione e condivisione con i suoi stakeholder, in primis l'associazione dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, sta sostenendo che maggior sicurezza è un elemento di competitività, lo stesso tema di questo seminario, di questo nostro evento. Nel fare questo vuole attuare, vuole sostenere strategie complessive che si portino al miglioramento di attrezzature, di impianti, strutture produttive ma anche all'adozione di un approccio gestionale e organizzativo alla salute e la sicurezza sul lavoro, rendendo la salute e la sicurezza sul lavoro, la gestione della sicurezza sul lavoro, un elemento integrato con la gestione complessiva delle organizzazioni. Per fare questo deve fare in modo che le aziende sviluppino un approccio manageriale alla sicurezza sul lavoro. Questo consentirà, e poi vedremo che ci sono dei dati anche a dimostrarlo, la riduzione della frequenza e della gravità degli infortuni e il numero e la gravità delle malattie professionali, trasformando anche i costi sociali rilevanti associati a questi eventi in benefici per le organizzazioni stesse e per il sistema produttivo e sociale nel quale le organizzazioni operano, sviluppando altresì nelle organizzazioni una concreta responsabilità sociale di impresa. Per fare questo possiamo contare su degli standard, dei modelli condivisi dagli stakeholders, in particolare abbiamo uno a livello nazionale, sono le linee guida per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro pubblicate dall'Uni nel 2001, e anche dei riferimenti più internazionali come le OHSS 18.001. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Uno studio pubblicato qualche anno fa dall'INAIL e dal Centro Europeo di Ricerche ha mostrato per il comparto dell'industria e dei servizi una relazione abbastanza evidente, almeno fino alla metà degli anni Ottanta, tra la crescita del tasso di innovazione tecnologica, che è quella linea tratteggiata, più chiara, sono gli investimenti di ricerca e sviluppo per addetto, quindi una sorta di tasso di innovazione tecnologica, quindi una relazione tra questo e la riduzione degli indici di frequenza degli infortuni, che invece è la linea più scura. Questa relazione, come vedete, si vede anche un po' a occhio, è abbastanza evidente fino alla metà degli anni Ottanta. Successivamente, questa relazione pur presente, non è così evidente, non è più evidente, e quindi se vogliamo riportare il trend a quei valori che c'erano prima, tra il 76 e l'86, vedete un trend molto forte, poi si attenua parecchio, dobbiamo aggiungere qualcosa, non abbandonare l'innovazione tecnologica, ma aggiungere qualcosa, una strategia che sia focalizzata non tanto sull'hardware dell'azienda, ma sul software, sulla parte biologica delle organizzazioni, cioè quella afferente alla componente umana, alle sue relazioni, alla struttura organizzativa che le governa, alla gestione del capitale umano, in termini di sviluppo di competenze, di capacità, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento delle strutture e delle funzioni dell'azienda, verso modelli e scelti definiti dai vertici, ma condivisi con la parte lavoratrice. In questi ultimi 15 anni, pertanto, abbiamo cercato di seguire, l'INA è stato un soggetto molto attivo in questo, si è lavorato per sostenere l'approccio manageriale, come diceva, la salute e la sicurezza sul lavoro. Una delle linee di sviluppo che più ci ha guidato è stata quella del documento dell'ILO, pubblicato nel 2001, le Guidelines on Occupational Safety and Management System, che sviluppando quindi linee guida nazionali in materia di sistemi di gestione della sicurezza, le ho già citate, linee guida UNI-INAIL del 2001, e poi linee guida di comparto realizzate attraverso il confronto e la partecipazione con le parti sociali, l'associazione di datori di lavoro, l'associazione di sindacali, grandi aziende con i loro sindacati e così via, cercando di facilitare, di avvicinare per le aziende il percorso di rispondenza, di conformità ai requisiti gestionali, tra quelli conosciuti internazionalmente, le necessità del mercato del nostro Paese. D'altra parte, proprio sull'approccio gestionale, si fonda la stessa direttiva comunitaria, la 89-391, una direttiva sulla sicurezza sul lavoro, che poi in Italia è stata ricepita con due decreti legislativi, la 626 prima e poi sostituita più recentemente dal decreto legislativo 81, che abbandona l'approccio esclusivo alla prevenzione e protezione oggettiva su base semplicemente tecnologica e tecnica, legata al principio del command and control, e impone alle organizzazioni pubbliche e private di organizzarsi e di gestirsi assegnando responsabilità e ruoli al dottore di lavoro e ai dirigenti, così ma ai preposti, ai capi turno, ai capi squadra, ai capi reparto, e ai lavoratori stessi, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze nella gerarchia dei poteri aziendali. E questo dà a crescere attraverso anche la partecipazione, la formazione e l'addestramento per aumentare la consapevolezza delle persone e le loro competenze. Questo è sintetizzato bene dall'introduzione e ineguida SGSL, che ho riportato lì, cioè la salute e la sicurezza sul lavoro come parte della gestione generale delle aziende, in modo tale che il sistema di gestione possa integrare gli obiettivi e le politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro nella pianificazione e nella gestione dei metodi di lavoro e nella produzione dei beni e servizi, per ottenere tutta una serie di vantaggi che vanno naturalmente all'aumento delle prestazioni prevenzionali, a riduzione progressiva dei costi della non sicurezza aziendale, a minimizzare i rischi cui possono esposti i dipendenti, i lavoratori e anche i terzi che operano per conto dell'azienda, incrementando l'efficienza, l'efficacia, le performance dell'organizzazione e migliorando anche l'immagine interna ed esterna dell'azienda stessa. Allora, lo sviluppo tecnico e tecnologico resta comunque importante, resta importante e fondamentale e deve essere sostenuto e rafforzato attraverso ad esempio l'attività di ricerca, è stato già citato ieri anche dal nostro Presidente ma anche da altri relatori, ricerca e verifica sul mantenimento in efficienza di macchine, impianti. L'INAIL lo sta affrontando con i propri dipartimenti di ricerca, con i propri corpi tecnici che hanno i suoi organici ed ha un importante compito, quello di verifica nel tempo del mantenimento delle caratteristiche di sicurezza delle macchine e degli impianti, è un compito specifico per l'INAIL che lo sta mutando nel tempo, questa cosa lo sta svolgendo in sinergia con soggetti privati che possono supportare i propri dipendenti nello svolgimento di queste verifiche. Ma a tutto questo noi abbiamo ritenuto che, come ho già più volte detto, che si è affiancata l'introduzione di modelli organizzativi, di sistemi di gestione della sicurezza per connettere gli investimenti in impianti, macchine e attrezzature in un quadro di obiettivi e risultati condivisi tra management e lavoratori. Questi sono i risultati possibili. Ed è uno studio, l'ultimo che abbiamo fatto, l'ultimo survey effettuato in collaborazione tra l'ufficio che rappresento e la consulenza statistica attuariale dell'INAIL che mostra la riduzione degli indici di frequenza, degli indici di gravità, degli infortuni e diversi comparti produttivi tra aziende che hanno sviluppato un sistema di gestione della sicurezza con le altre dello stesso comparto. Per economia di tempo guardiamo l'ultima riga, quella totale. Cioè noi assistiamo a una riduzione del 27% negli indici di frequenza e del 35% degli indici di gravità tra aziende che hanno adottato l'approccio gestionale e le altre dello stesso comparto. Quindi risultati decisamente rilevanti che dovremo continuare a monitorare, continuare a verificare, ma insomma che ci confortano in questa ipotesi di lavoro. Ipotesi di lavoro che abbiamo dovuto, come dire, sostenere soprattutto per le piccole e medie imprese. Anche nel nostro paese sono la maggior parte e quindi sono il vero motore produttivo del sistema paese. Dobbiamo naturalmente sollecitare lì il massimo del cambiamento. E quindi si sta lavorando nella definizione di metodi, procedure semplificate, standardizzate, sia per la valutazione dei rischi, anche seguendo gli input comunitari con l'importazione del modello OIDA di cui si parla in un altro dei workshop paralleli a questo, sia per l'adozione di modelli organizzativi e gestionali internazionali comunque coerenti con gli standard gestionali più diffusi come ad esempio quello internazionalmente noto come l'EVHSS 18.001. Attualmente stiamo anche lavorando presso ISO sulla norma internazionale 45.001 che è possibile che tra un anno, entro un anno, un anno e mezzo dovrebbe vedere la luce come norma internazionale sui sistemi di gestione della sicurezza. Questo rappresenterà un notevole passo avanti in un mondo globalizzato come il nostro. L'INAIL ha proposto e sostenuto l'adozione dei sistemi di gestione della sicurezza sia sul piano normativo e regolamentare che culturale, attraverso corsi di formazione, pubblicazioni, partecipazione alla discussione scientifica e politica sul tema che non ho potuto che semplificare così essendo effettivamente tanti e troppi da poter sintetizzare in questi pochi minuti che ho a disposizione. Mentre invece volevo focalizzarmi sugli incentivi, sul sostegno economico che l'INAIL sta erogando in questi anni per le imprese basati su due schemi principali. Il primo è la riduzione dei premi assicurativi cioè sul pagamento che le imprese erogano a l'INAIL per assicurarsi. L'INAIL è in fondo un'assicurazione sociale quindi le imprese pagano un premio in funzione del proprio rischio questo premio può essere ridotto per le aziende che hanno o un andamento infortunistico favorevole o per imprese e o anche può essere ulteriormente ridotto per quelli che hanno degli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro e poi lo vedremo meglio. L'altro schema è quello dei finanziamenti economici a fondo perduto che si basa su due schemi uno un po' più consolidato perché è attivo già da alcuni anni che è rappresentato lì lo chiamano schema ISI lo chiamiamo noi e l'altro è invece una novità di quest'anno il primo bando è appena è stato pubblicato ed è in itinerie che è invece un fondo per l'innovazione tecnologica dedicato a particolari settori produttivi che hanno mostrato particolari criticità in tal senso e qui denominato schema FIPIT. La riduzione del premio è uno sconto come dicevo sul premio assicurativo che viene dato a quelle imprese che sono in regola con i contributi sociali versati all'INAIL ma anche quelli per i contributi per le pensioni che sono in regola con le leggi per le norme di legge e hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza ulteriori rispetto alle norme di legge. Dal 2009 al 2012 il risparmio del premio per le imprese è stato di 850 milioni di euro quindi una cifra piuttosto rilevante che porta per imprese che è diversa una percentuale di sconto che è diversa a seconda della dimensione aziendale maggiore per le imprese più piccole e che si può sommare lo sconto per gli investimenti e lo sconto per un andamento infortunistico favorevole cioè per le imprese che hanno un numero di infortuni inferiore alla media del loro comparto può arrivare come sommatoria a dimezzare il premio assicurativo. Quindi non è solamente l'investimento è l'investimento sommato ai risultati può portare a dimezzare l'ammontare che le imprese pagano all'istituto. Lo schema ISI nella tabellina di lato lassù vedete i fondi che l'INA e gli anni hanno messo a disposizione abbiamo cominciato con 60 milioni di euro nel 2010 siamo arrivati l'anno scorso l'anno in corso a 307 milioni di euro il bando prossimo che sarà pubblicato entro la fine dell'anno e quindi avrà effetto nel 2014 sono stati stanziati all'incirca 260 milioni di euro non l'ho scritto perché la notizia è recentissima ed è successiva alla redazione della mia slide i meccanismi sono stati abbastanza simili negli anni però diverse differenze ci sono state quindi mi limito a quello tuttora in corso quello del 2013 che si sta svolgendo nel 2014 si tratta di un di un contributo a fondo perduto che copre il 65% del costo totale del progetto il resto è coperto dall'impresa ma si può arrivare comunque a un massimo di finanziamento di 130 mila euro per ogni impresa si tratta di progetti per ridurre i rischi professionali legati al rinnovamento delle macchine al rinnovamento dei luoghi di lavoro alla reingegnerizzazione dei processi produttivi piuttosto che invece a progetti per l'implementazione di sistemi di gestione e modelli organizzativi o la sostituzione e il miglioramento di macchine obsolete perché è messa in servizio in tempi lontani prima del settembre del 1996 quindi prima della direttiva macchina prima della marcatura cifra i progetti presentati accolti che si stanno verificando per essere sottoposti al finanziamento vedete hanno riguardato movimentazione manuale dei carichi la rimozione di manufatti contenenti amianto rischi da vibrazioni e rumore e così via e così via sono stati finanziati anche 409 aziende che vanno a sviluppare modelli organizzativi e gestionali e sono state richieste circa poco meno di 149 macchine da sostituire questo sembrano poche ma era una parte del fondo era destinata a questa cosa si è esaurita facilmente quindi vedete sono interventi che vanno da un lato a eliminare il rischio cercano di eliminare il rischio di ridurlo alla fonte altri sono invece richieste di elementi complessivi di gestione della sicurezza che appunto cercano di portare il quadro a una ricerca di obiettivi per ottenere risultati misurabili l'ultimo schema quello che è la novità di quest'anno riguarda solamente le micro e le piccole imprese per ridurre il rischio di natura tecnologica si è destinato per quest'anno a tre comparti specifici riconosciuti come particolarmente rilevanti per la gravità e la rilevanza degli infortuni anche un po' per una certa arretratezza in certi ambiti e quindi l'agricoltura il finanziamento è finalizzato all'adeguamento dei trattori il comparto delle costruzioni per ridurre il rischio della movimentazione manuale dei carichi e della caduta dall'alto e la estrazione e la lavorazione di materiali lapidei anche qui per ridurre il rischio legato al rumore alle polveri e alla movimentazione manuale dei carichi c'è un budget per quest'anno di 30 milioni di euro e anche questo un finanziamento a fondo perduto che copre il 65% del progetto sono ammissibili progetti che hanno un minimo di richiesta di 1000 euro e un massimo di 50.000 euro per ogni impresa un'impresa un progetto quindi insomma anche questo vedete è come dire un completamento per affrontare con qualcosa di estremamente puntuale e concreto elementi che sono stati riconosciuti nel nostro paese di particolare rilevanza e gravità noi stiamo cercando un percorso che possa qualificare rendendolo misurabile l'eccellenza nell'azione prevenzionale cercando di estrarre dal mare magnum delle imprese quelle che possono rappresentare un traino per le altre rappresentando appunto un benchmark di riferimento e lo stiamo sperimentando anche attraverso un modello che abbiamo elaborato che si chiama framework per la salute e la sicurezza sul lavoro mutuato dall'approccio di FQM cioè quello dell'European Foundation for Quality Management che stiamo applicando nell'ambito di un premio il premio imprese per la sicurezza frutto della collaborazione di Inail con la Confindustria con la collaborazione dell'ente di unico di accreditamento italiano Accredia e con l'associazione premio Qualità Italia siamo giunti quest'anno alla terza edizione sono già diverse centinaia di piccole medie grandi imprese che hanno partecipato una decina sono quelle premiate o che verranno premiate la premiazione della terza edizione sarà la prossima settimana e quindi sappiamo già che ci sono qualche qualche impresa che è stata come dire particolarmente eccellente e il premio è interessante perché anche qui fonda la sua valutazione sugli approcci adottati e sui risultati raggiunti quindi non sulla casualità di un risultato ottenuto per una qualche ragione ma sulla ricerca di quei risultati attraverso approcci scelti e voluti dal management in condivisione con i propri lavoratori questo rappresenta evidentemente la ricerca di un'eccellenza non è la base delle imprese sono poche centinaia le imprese che partecipano ma esse possono rappresentare come dicevo prima un benchmark che ci porta a sostenere un cambiamento culturale che vogliamo che si verifichi all'interno del sistema produttivo e che sostituisca la cultura dell'attempimento formale con quella dei risultati misurabili ottenuta a valle della scelta di obiettivi specifici aziendali di miglioramento progressivo secondo una politica una strategia aziendale di miglioramento e che sostituisca quindi la cultura della prevenzione come un costo con quella della prevenzione come investimento come elemento effettivo di competitività è un percorso difficile è un percorso difficile non tutte le imprese si sentono pronte non tutte nemmeno disponibili però per questo anche per avvicinarle per renderle man mano sempre più mature in questo continuiamo a sostenere anche l'approccio tecnologico senza il quale peraltro quello gestionale organizzativo non avrebbe nemmeno senso per cui è un percorso difficile non voglio sicuramente che passi il messaggio che sia semplice ma è sicuramente possibile ieri sentivo alcuni parlavano di progetti zero accident ecco questo anche per noi è un obiettivo difficile ci vorrà del tempo ci auguriamo però di raggiungerlo e lavoriamo per questo vi ringrazio per l'attenzione grazie 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 grazie